Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, se avete visto il video mio di ieri, sapete che io ultimamente sono stata colta da un attacco di panico e come vi avevo promesso, ho deciso di fare un video a parte, in cui vi spiego brevemente, in poche parole, la differenza che c'è tra l'ansia e un attacco di panico. Perché parecchie persone credono che sia la stessa cosa, perché in fondo si sembra agitato, però non è così. Non è così perché c'è una grossa differenza tra avere un attacco d'ansia e l'attacco di panico. L'ansia è una cosa conscia, più diciamo che ti senti tu, sai di avere l'ansia. E i sintomi sono i seguenti. Dolore al petto e al palmo delle mani. Cuore che batte più forte del solito. Sudorazione. Tremori e affanno. Quando, per farvi soltanto uno dei tanti esempi, quando io andavo a scuola, siccome io non è che ho passato dei bei momenti, avevo l'ansia. Però io sapevo di avere l'ansia. Sapevo perché me lo sentivo, ero proprio elettrica, agitata. Dicevo, no, io a scuola non ci posso andare perché ho paura. Cioè proprio, si vedeva, io sapevo che quei sintomi erano dovuti all'ansia. Non era una questione che avevo l'infarto o altro. L'attacco di panico invece è una cosa molto diversa perché è più brutto, diciamo così, ed è una cosa inconscia. E i sintomi sono i seguenti. Ti manca il respiro, ti sembra che devi morire da un minuto dall'altro e si possono avere dei movimenti incontrollati di un arto. Perché è una cosa inconscia? Perché tu, tu, non ti senti che sei agitato. Cioè tu sei calmo, fai le cose che fai sempre, soltanto che c'è questo affanno, questa sensazione di non poter respirare. E ci sono parecchie persone che per un attacco di panico sono andate a finire a posto soccorso, proprio perché pensavano di dover morire. E io ero lungo quella strada perché se non era per i miei genitori, anche per il medico, mi spiegavano, guarda quello che stai avendo tu è un attacco di panico. Io continuavo a insistere con questa cosa, portatemi al pronto soccorso perché secondo me io ci lascio le penne. Perché veramente è una cosa orribile. E così brevemente vi ho spiegato la differenza che c'è tra le due cose. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale.